destra 3 vai 30 ai cartelli sinistra 3 sfiora 20 sinistra 4 vai 50 al palo destra 3 destra 3 in accenno sinistro 3 in accenno sinistro 20 sinistra 3 in destra 4 lunga vai 50 al muro sinistra 3 chiude poco 100 al giallo destra 3 gira vai 50 al muro sinistra 3 sudosso sconnesso sinistra 3 sudosso sconnesso per destra 3 chiude destra 3 chiude 100 sinistra 3 sfiora sinistra 3 sfiora sinistra 3 sfiora in destra 4 meno sudosso 50 al ringhiera sinistra 3 sconnesso per destra 3 chiude destra 3 chiude 50 al rai sinistra 3 al rai destra 3 per sinistra 3 scivola sinistra 3 scivola 30 ritarda sinistra 4 30 alla zebra attento sinistra 3 chiude sinistra 3 giù la chiude per attento sinistra 3 chiude ancora chiude ancora e alla zebra destra 3 50 destra 4 e al box chiude 3 destra 4 al box chiude 3 esci in sinistra 4 vai 30 al muro sinistra 3 chiude poco e qua chiude poco in destra 4 destra 4 100 a rai accenno destro per sinistra 3 chiude attento sinistra 3 chiude attento destra 4 per accenno sinistro per destra 3 chiude al bianco chiude al bianco in sinistra 3 gira poco sinistra 3 gira poco in destra 4 sconnesso vai attento 30 sinistra 3 lunga tieni e subito destra 4 e subito destra 4 destra 4 50 alla pianta destra 3 vai destra 3 vai esci in accenno sinistro in destra 3 chiude destra 3 chiude questa sinistra 4 per accenno sinistro 30 la ringhiera attento sinistra 3 sinistra 3 che è questa qua in destra 3 apre 20 al cartello dosso 30 attento giochino destra 2 attento giochino destra 2 esci in sinistra 2 ancora 20 sinistra 2 esci in destra 2 al cartello accenno destro e alla zebra destra 3 occhio destra 3 occhio questa occhio esci sinistra 4 sfiora 50 al cartello scicane entrata destra scicane entrata destra 100 alla zebra destra 3 ritardala in sinistra 4 in sinistra 4 30 alla zebra destra 3 giù là destra 3 esci in sinistra 3 sfiora 50 al palo scicane entrata destra entrata destra 50 la zebra destra 4 per sinistra 4 in accenno destro in sinistra 4 sfiora e alla zebra giù là 3 molto destra 3 chiude molto destra 3 chiude molto in destra 4 in sinistra 5 per accenno destro in attento destra 3 chiude destra 3 chiude esci in sinistra 4 vai 70 accenno sinistro accenno destro sinistra 3 chiude qua molta attenzione 3 chiude destra 5 ritarda finirell destra 5 ancora e subito sinistra 3 chiude destra 5 per sinistra 3 chiude su ponte chiude su ponte questa è quella sporca deve essere no no accenno destro per sinistra 3 per destra 5 e al palo ancora destra 5 e alla zebra destra 3 giù là destra 3 chiude esci in sinistra 5 e alla ringhiera sinistra 3 doppia chiude 2 doppia chiude 2 doppia chiude sporca eccola qua 100 100 al cartello ritarda destra 3 chiude chiude esci in sinistra 4 vai al cartello sinistra 3 chiude gira 3 chiude gira destra 3 vai esci in accenno destro accenno destro 50 ai bidoni blu sinistra 3 chiude sinistra 3 chiude in destra 4 tieni destra 4 tieni 100 al bidone destra 4 per sinistra 4 e destra 4 per sinistra 4 in destra 5 per destra 3 per sinistra 3 chiude destra 3 per sinistra 3 chiude Per destra 3 vai 100 al cartello Destra 2 in 2 tempi Attento eh Destra 2 in 2 tempi Chiude E al cancello Sinistra 3 in 2 tempi Chiude a fine ponte eh Sinistra 3 in 2 tempi Chiude a fine ponte Sinistra 5 Per destra 3 chiude Destra 3 chiude 50 allo specchio Sinistra 3 chiude Sinistra 3 chiude Belli Grazie a tutti Grazie a tutti